Una donna di 33 anni è stata arrestata ad Arezzo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna è stata fermata dagli agenti della squadra mobile per un controllo mentre stava viaggiando con la sua auto e procedeva per strada in maniera irregolare. Durante il controllo si è mostrata visibilmente nervosa e così i poliziotti hanno deciso di sottoporla ad una perquisizione personale e successivamente presso la sua abitazione. Qui sono stati rinvenuti due involucri contenenti complessivamente 300 grammi di cocaina pura in polvere e 125 grammi di sostanza da taglio. Oltre ad una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi e in particolare una pressa manuale idraulica con stampo artigianale utilizzata per compattare e confezionare i panetti della sostanza stupefacente. La droga una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 50.000 euro. La donna è stata arrestata.